Dopo l'attacco al segretario generale dell'ONU Antonio Gutierrez, accusato di aver trascinato le Nazioni Unite verso una deriva antisemita, Israele ha deciso di bloccare i convogli alimentari dell'Urwa verso il nord della Striscia. È oltraggioso e intenzionale ostacolare l'assistenza salva vita durante una carestia provocata dall'uomo, ha commentato su X Filippo Lazzarini, direttore dell'Agenzia ONU per i Rifugiati Palestinesi. Israele sarebbe pronto a rilasciare tra i 700 e gli 800 palestinesi detenuti nelle carceri israeliane nell'ambito di un accordo per il cessato il fuoco nella striscia di Gaza e il rilascio degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas. Lo riportano i media israeliani, secondo i quali Israele avrebbe sottoposto una nuova proposta di accordo in tre fasi con una probabilità di esito positivo del 50%. Nonostante le tensioni dovute al conflitto in corso, i fedeli cristiani hanno partecipato alla consueta processione per la Domenica delle Palme a Gerusalemme. In concomitanza si sono svolte le celebrazioni della festa ebraica di Purim.